Buonasera, benvenuti alla presentazione dell'ultimo giallo di Cristina Cassarscaglia, il talento del cappellano, eccolo qua, è il quinto romanzo della serie con Vanina protagonista, un romanzo, dico poco, racconto poco perché i gialli non devono essere mai raccontati, devono essere letti perché se no si rovina tutta la sorpresa, c'era un film, tu che sei una cinefile, c'era un film divertentissimo che era Totò le donne, non so se tu te lo ricordi, che Totò andava a letto con sua moglie e leggeva sempre un giallo e la moglie prima di spegnere la luce diceva ma no ma dai non andrà avanti, tanto l'assassino è giandegnere e allora Totò si incazzava come una bestia, andava in soffitta e accendeva un lumino a Landrou, il famoso assassino di donne e di moglie, un film meraviglioso, quindi insomma per evitare di fare come la moglie di Totò non racconterò nulla, solo l'incipit perché sono le prime pagine, quindi insomma il romanzo inizia con una scena anche qua per essere cinefili quasi alla Shining in un albergo abbandonato, un grande albergo abbandonato sulle pendici dell'Etna con una grandissima nevicata, ecco per me torinese vedere questa grande neve a sud mi stupisce, però effettivamente la neve c'è sull'Etna, c'è questo grande albergo con un guardiano, con un personaggio strano, uno che pensa che esistano gli UFO eccetera eccetera, che va e entra lì dentro per controllare l'albergo e incappa vede un cadavere, corre fuori, parla con la sua moglie, insomma la persona che lo accompagna, diceva c'è un cadavere, entra dentro invece il cadavere è sparito, in realtà il cadavere c'era davvero perché il giorno dopo viene ritrovata una donna, una donna morta in una critta di un cimitero messa, insomma una macabra ma è anche allusiva, messa in scena accanto a un altro cadavere, il cadavere di un prelato, di un altro prelato, insomma due morti, il giallo incomincia così, carico di mistero, appunto una donna è un prete morti accanto uno accanto all'altro, chissà che cosa vuol dire, e Vanina, Vanina Guarasi, la vicequestore di Catania, deve indagare. La aiutano tutta la serie di suoi carusi, per usare un termine caro a Cristina, cioè i tuoi personaggi che sono della squadra mobile, insomma intorno a lei, e soprattutto questo vecchio commissario che è una figura ricorrente dei romanzi di Cristina, che è il commissario Patanè, un commissario ormai in pensione, che però non ha nessuna intenzione di stare a riposo, anche perché ha una moglie un po' ossessiva, molto accudente, però un po' ossessiva, insomma quindi lui si diverte a fare le indagini, vuol dare una mano a fare queste indagini a Vanina, perché insomma è un'amicizia molto consolidata. Sullo sfondo c'è la Sicilia, c'è la Catania, la Catania, tra l'altro una Catania, diciamo la Catania che noi abbiamo visto anche protagoniste di queste terrificanti alluvioni, ecco questa qui invece è una Catania più che altro secca, ecco diciamo direi non poco alluvionata, però una Catania congestionata dal traffico, una Catania dove fai fatica veramente a muoverti, di fatti torna spesso questa idea che per spostarsi da un luogo all'altro della città devi prenderti davvero del tempo, anzi devi inventarti degli stratagemmi per poter vincere il traffico, una Catania dove è difficile posteggiare, cioè c'è l'incubo proprio del posteggio, anche qua, e devo dire, però anche lì insomma i protagonisti che devono posteggiare fanno giri intorno alla questura, eccetera, eccetera. C'è la Sicilia, c'è il dialetto siciliano, c'è molto dialetto siciliano, questa seconda lingua ormai del giallo italiano, insomma Camilleri ci aveva abituato che il siciliano insomma è una lingua molto gialla, molto noir, molto da thriller, eravamo abituati con l'hard boiled, diciamo ai termini americani, inglesi, ecco adesso abbiamo scoperto questa assonanza diciamo del siciliano con il genere giallo. E poi soprattutto c'è la protagonista, questa Vanina che cresce, che si evolve, che vive e che passa da un romanzo all'altro perché è il quinto della serie, ed è una vera e propria serie e Vanina appunto si evolve, un personaggio coraggioso, un personaggio determinato, risoluto, molto molto golosa, ci sono tanti dolci, nel vestiario è un po' new yorkese, un po' parigina come la definisce una sua amica, ha un rapporto spigoloso con la madre, ma d'altronde con le madri si hanno solo rapporti spigolosi, non è facile avere rapporti con la madre, molto cinefila e poi ha questa vita sentimentale, questa vita amorosa un po' complicata e si prende, si molla, un po' come succede poi nella vita di tutti i giorni, con questo PM che insomma si amano, ma forse insomma succede che si prendono e si lasciano. E anche l'evoluzione dell'amore, anche l'evoluzione diciamo dei rapporti sentimentali fa parte, diciamo è uno dei canovacci della storia. Ecco però il protagonista appunto è Cristina, io voglio lasciare passare, voglio parlare lei insomma perché è lei che ci deve raccontare. Allora io partirei proprio dal protagonista perché soprattutto nei romanzi seriali, nella serialità l'autore è portato a metterci dentro molto di autobiografico o per assonanza o per contrasto. Ecco quanto c'è di Vanina, di Vanina, di te o viceversa insomma? Ma non molto, c'è il fatto di essere una cinefila selettiva, come mi definisco io. Lei è una cinefila che ama un certo tipo di cinema, lei ama il cinema italiano di altri anni, non il cinema italiano attuale. ha una collezione di tutti i film che abbiano anche una sola scena girata in Sicilia, quello è proprio un vezzo, proprio una collezione, tutti gli effetti che ha, ma ama moltissimo quel cinema lì. E questa è una cosa che abbiamo in comune, è stata un po' una scusa anche per raccontare la mia passione per quel cinema lì. Però a lei ho dato qualcuno con cui condividerla, ecco, io non ce l'avevo qualcuno con cui condividerla, e a lei ho detto no, ti regalo questa cosa, ti regalo Adriano Calì con cui condividerla. Un'altra cosa di Vanina in comune è che dorme poco e che lavora molto bene di notte, e questa è una mia caratteristica. C'è qua qualcuno che sa benissimo, che arrivano le mie mail alle 4 del mattino, perché ho finito di scrivere in quell'orario lì, in questo siamo uguali. Il resto molto 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 diverso, Vanina è molto più coraggiosa di me, ha una vita molto diversa dalla mia, ha un passato ovviamente estremamente diverso dal mio, un passato molto ingombrante, quindi è un personaggio che io ho creato Vanina come l'avrei voluta leggere, ecco, io ho creato il personaggio che mi sarebbe piaciuto trovare in un libro da lettrice, prima di tutto, quindi ho pensato se mi piace come lettrice, magari piacerà anche ad altri, questa è stata un po' la mia idea, ho sperato questo più che altro, e quindi l'ho creata come piaceva a me, con determinate caratteristiche, e le ho voluto dare quel passato, anche perché ho voluto raccontare quel pezzo di storia che poi il suo passato evoca. Sì, beh, il passato di Vanina è tragico perché suo padre è stato ammazzato dalla mafia, ecco, tra l'altro la mafia c'è, cioè ovviamente quando uno parla di Sicilia, immediatamente la, diciamo, la fantasia o per associazione di idee si pensa alla mafia, allora nei tuoi romanzi la mafia c'è, però in qualche modo è sullo sfondo, cioè tu ti occupi in realtà di altre cose, ecco, come mai, è una scelta oppure no, o è casuale? Ma il Vanina non si occupa più di mafia, si è occupata di mafia, adesso non se ne occupa, non se ne vuole più occupare, in modo, perché vorrebbero tutti i vari, insomma, la maggior parte dei suoi superiori vorrebbero che lei tornasse a occuparsi di criminalità organizzata, perché lei ha una competenza anche in materia importante, però lei, questo, si rifiuta di farlo. A me fa un po' gioco, perché raccontare un delitto comune è diverso, raccontare solo un delitto di mafia, ecco, questo sarebbe, renderebbe tutto, a parte tutto molto più scontato poi alla fine, perché alla fine quei delitti di mafia sono scontati, sono quelli. Poi la mafia c'è sempre, perché in realtà, girala come vuoi, alcuni personaggi, un delitto che avviene in determinate situazioni, purtroppo la mafia devi un pochino, magari, supporre che possa entrarci, allora succede quasi sempre che poi c'è un po' una pista che potrebbe essere una pista mafiosa con un grande disappunto di Vanina, perché poi si troverebbe di nuovo a occuparsi di delitti che le farebbero venire la nausea solamente a pensarci, però si potrebbe anche trovare a occuparsene, perché in realtà è una realtà che c'è, quando, insomma, si va in un quartiere come San Cristoforo, Catania, la mafia c'è, purtroppo la realtà è quella, quindi se avviene qualcosa che ha a che fare in qualche modo con qualcuno di quel quartiere, e poi inevitabilmente la pista mafiosa, però il passato di Vanina, la competenza di Vanina in materia, le dà anche la possibilità di capire quasi subito quando difficilmente la mafia può entrarci in un omicidio, quindi anche questo, da una parte, potrebbe esserle utile per risolvere degli omicidi di mafia, però può anche esserle utile per capire quando la mafia non c'entra nulla. Ecco, a proposito di mafia, dell'atteggiamento della mafia dell'istituzione, ecco, mentre, diciamo, il PM amato da, amato, diciamo perché amato, no, da Vanina. Sì, sì, assolutamente. E poi non diciamo niente, perché se no, ecco, ecco, mentre lui è un PM che combatte la mafia, cioè la combatte in maniera molto attiva, come ha fatto, tra l'altro, ecco, Vanina l'ha salvato in un attentato, c'è anche questo amore che passa attraverso anche la professione, il mestiere di tutti i giorni. C'è invece un altro magistrato che si incontra nel romanzo, in cui tu lo dici proprio esplicitamente, cioè uno che, appunto, se capisce che ci sono coinvolti dei pezzi grossi, pensa di mettersi da parte, cioè vuol girarsi dall'altra parte, non vuol erogne, cioè, sì, cosa del genere. Ecco, questi due volti, no, della magistratura, cioè quello che vuol combattere la mafia, e abbiamo tanti esempi anche eroici e tragici nella storia d'Italia, invece quello che preferisce, appunto, non avere grane, no, è un atteggiamento in fondo molto mafioso, no, cioè del non vedere, non sentire, allora, ecco. Tu, in questa duplicità, diciamo, delle due facce della magistratura, ecco, c'è qualche cosa, anche un atto, come dire, d'accusa, tra virgolette, a una parte della magistratura che in Sicilia forse fa poco rispetto a quel che dovrebbe fare? Ma in realtà è più un racconto della realtà, perché alla fine in realtà, se uno magari va a guardare tutti i PM del Tribunale di Catania e di Palermo, e quindi ci saranno quelli come Paolo Malfitano, o come Eliana Recupero, ci saranno quelli come Vassalli, e non c'è niente, tra l'altro non è soltanto un atteggiamento proprio come magistrato, è un atteggiamento proprio dal punto di vista, come uomo, dal punto di vista sociale che lui ha, lui, diciamo, determinate persone che evita di dover, con cui evita di doversi trovare a fare il PM, e quindi, insomma, alle brutte proprio si dà ammalato, ecco, e per questo per Vanina è eccezionale, perché quando lui si dà ammalato poi ovviamente passano la palla a un altro magistrato, perché per esempio c'è un altro magistrato non antimafia, non Comediana Recupero, che è il PM Terrasini, che invece lei si è ritrovata in altre indagini, con cui invece lei va d'amore e d'accordo, perché uno molto spiccio come lei, se c'è da fare una cosa c'è da farla e non si guarda in faccia a nessuno, e quindi è un po' sì, i due volti reali, poi alla fine, della magistratura come della società, perché è quello che avviene, penso, in tutti gli ambiti questo. Ecco, a proposito del coraggio, tu appartieni, diciamo, il coraggio qua è un coraggio molto femminile, perché appunto Vanina e anche altri personaggi femminili, comunque per varia, sono portatrici veramente di una buona dose di coraggio, comunque di risolutezza, cioè appunto la realtà deve essere affrontata, combattuta a testa alta, ecco, con la schiena dritta. Ecco, Vanina appartiene a questa nuova ormai categoria del giallo italiano, del giallo contemporaneo, cioè che ormai pullula di personaggi femminili, personaggi femminili risoluti, forti, eccetera, eccetera, che rispecchia anche in qualche modo un mutamento della società, cioè se noi pensiamo all'inizio del giallo, il giallo come genere letterario è un giallo esclusivamente maschile, il giallo nasce appunto in America, America e Inghilterra, c'è Edgar Allan Poe, Conan Doyle, sono dei personaggi veramente maschili, ma proprio quasi maschilisti, per non parlare poi dell'hardboid americano, anzi dove sono molto macisti e le figure femminili che compaiono nei romanzi sono o di semplice arredo oppure sono figure demoniache, cioè sono il simbolo del peccato, cioè la donna è il peccato, il male che seduce ma che poi tradisce, eccetera, eccetera. Ecco invece nell'evoluzione del giallo contemporaneo in Italia, ma credo anche altrove, ormai le protagoniste femminili non sono più un'eccezione, anzi sono la regola, no? Cioè sono loro la vera svolta del giallo italiano, appunto coraggiosi, intrapendenti e poi molto molto reali, ecco perché Vanina è oltre ad essere una poliziotta è anche una donna con i suoi problemi, ecco tu hai voluto creare, credo, un personaggio appunto che fosse soprattutto un personaggio vero, un personaggio credibile, immagino. Ti sei ispirata perché nei ringraziamenti finali, ecco tu ringrazi insomma, mi pare, agenti di polizia, insomma della questura, eccetera, eccetera, che credo che tu abbia incominciato a frequentare. Ecco, ti sei ispirata alle persone che hai visto intorno a te in divisa? Io sono partita dal personaggio, un po' l'ho creato come volevo io. Poi dopodiché io alla Mobile di Catania ci sono stata mille volte, ho approfittato di avere la conoscenza con un dirigente della Mobile e sono andata lì, devo dire, alle volte mi capitava di andare in giro per i corridoi della Mobile, incontravo poliziotti, mi dicevano scusami ma lei chi è? Che ci fa qui? Io no, guarda, io devo solo vedere qua l'ambiente, perché poi ho raccontato la squadra, la squadra è inventata ovviamente, sono tutti i personaggi inventati, però gli uffici sono quelli veri, proprio sono così, c'è anche la macchinetta del caffè sotto le scale, proprio esattamente così. Questo agli poliziotti della Mobile di Catania piace da morire, questa storia di essere finiti in qualche modo, ovviamente non loro, ma insomma il loro mondo, essere finiti nei libri, nei libri che vengono poi letti, però sì, tanto, allora io ho conosciuto delle poliziotte, con ruoli apicali, importanti, ma ne dico una, il capo dei falchi della Mobile di Palermo è una donna, una donna molto molto in gamba, ho conosciuto e ne ho conosciute e più vado avanti, più, allora sono, le donne ancora purtroppo numericamente sono di meno, molte di meno, però ne ho conosciute tante, ruoli anche molto importanti, anche donne questore, per esempio, ecco, io credo che tutto questo, quello che dicevi tu, cioè che adesso c'è molta più presenza, è vero che un po' la letteratura segue la realtà, è anche vero che un tempo le uniche figure femminili che venivano fuori nel genre erano comunque figure di persone che non centravano niente con l'indagine e poi per puro caso poi partecipavano, invece adesso come comincia a essere percepito in modo normale, le figure femminili sono delle investigatrici, fanno parte delle forze dell'ordine, fino a un certo momento era impossibile che fosse così perché effettivamente non facevano parte le forze dell'ordine, quindi tutto questo secondo me poi è venuto fuori a poco a poco e speriamo che avvenga fuori sempre di più, ovviamente. Sì, e tra l'altro ecco tu descrivi, mi fa piacere sapere che loro si divertano insomma a essere rappresentati di questo, e tu descrivi questi ambienti della squadra mobile, della questura, insomma, estremamente faticenti, cioè non c'è una sola cosa che funziona. Ma è la verità. Apri una porta, si rompe, si rompe la porta. Adesso questo non lo so se è mai successo, però il fatto che non si possa prendere l'ascensore, ad esempio, mi è successo proprio, l'ho scoperto perché mi è successo, che un agente mi stava dicendo, no ma magari saliamo con l'ascensore, è arrivato uno, no, per carità, l'ascensore, no, si ferma continuamente, erano rimasti chiusi, non so, tre ore dentro questo ascensore, si sfermava ogni tre minuti, eccetera, e ho messo in un bugigattolo là dietro dove neanche sai, non immagini neanche che ci sia. Quei locali sono un po' così anche, quindi sono un po' fatiscenti sotto alcuni punti di vista, però sono quelli, sono reali e a me piace, a me è piaciuto anche raccontare, della mobile di Palermo, la squadra, la stanza della catturandi dove ci sono tutti i cimeli dei trovati nelle covi dei latitanti, quello è reale, esattamente così perché anche alla mobile di Palermo mi sono trovata lì a girare, a fare la turista, guardata in modo strano dai poliziotti che pensano sempre ma questa chi è, anzi sono stati così gentili e così carini da permettermi di inserire idealmente il nome del padre di Vanina nella lapide che c'è all'inizio, proprio all'ingresso della mobile di Palermo c'è una lapide dove sono scritti i nomi di tutti i poliziotti che sono stati uccisi, soprattutto in quei due decenni in realtà in cui la mafia palermitana ha fatto davvero una carneficina di poliziotti, di magistrati, ci sono tutti questi nomi e loro sono stati così gentili da permettermi di inserire il padre di Vanina, io questo ovviamente gli ho chiesto il permesso per farlo perché non era ovvio che mi dicessero per forza di sì, però ho voluto inserire il padre idealmente in quella lapide lì, proprio per dargli anche un po' più, ancora più senso a quello che avevo, quello che avevo voluto ricordare, dandogli quella storia. Ecco, senti adesso appunto la città protagonista adesso dei tuoi romanzi, adesso perlomeno in questo, è Catania, ecco tu hai scelto di raccontare Catania, devo dire che è una Catania sullo sfondo appunto molto congestionata, molto caotica, però è una Catania, cioè i veri protagonisti sono gli esseri umani poi, è vero ci sono i vicoli, ci sono ogni tanto le chiese, i cimiteri, ci sono i bar, i bar come elemento ancora importante della vita sociale dove si chiacchiera, dove si parla dei morti ammazzati, dove si fanno ipotesi investigative, insomma c'è una vita intensa, ci sono le pasticcerie eccetera eccetera, insomma è una Catania che vive, ecco c'è stata una risposta, cioè tu stai raccontando, appunto stai raccontando Catania, i poliziotti ti dicono si divertono insomma a vedersi rispecchiati diciamo nella polizia letteraria, nella tua polizia letteraria, ecco la città di Catania in qualche modo si riconosce nei tuoi gialli, ha dato una risposta ai tuoi gialli? Credo di sì, io cerco di raccontarla così com'è, mi seccherebbe dare un'immagine da cartolina perché non è questo che voglio, quindi ogni tanto racconto anche delle criticità di Catania che magari i catanesi leggendo le dicono ma come potevi evitare di dire no, non evito di dirlo perché è così, quindi è giusto che venga raccontato così, però ho voluto raccontare Catania così com'è anche con la sua velocità, Catania è una città veloce, è una città viva, è una città dove la sera si esce anche di lunedì per esempio, cioè è una città che ha una vita anche notturna, molto molto frenetica, è una città moderna e quindi ho voluto raccontare anche un po' questa Sicilia qui, che è una Sicilia metropolitana, una Sicilia un po' diversa da quella che siamo abituati un po' anche a leggere o a vedere e anche un po' si vede la differenza, tu citavi il bar dove si fanno è quello il bar di Santo Stefano che è un paese che ha la realtà del paese, poi ci sono i bar di Catania dove magari Giulia, l'amica di Vanina, la porta a fare l'aperitivo, io dico ovviamente tra virgolette Milano style, cioè questi posti molto molto in tendenza dove si va e dove incontri tutta un po' la Catania più mondana, ecco ci sono un pochino questi due aspetti della società, il paese di Santo Stefano è un paese che ha una realtà un po' più diciamola così siciliana, autentica per come ce l'immaginiamo noi, Catania sembra in effetti una metropoli di un altro tipo. Ma stai cominciando a nascere come succede in tutte le serie gialle eccetera eccetera, un turismo tra virgolette sui luoghi cassarscagliani del genere? Sì in qualche modo sì, mi è capitato per esempio che il bar che tu citavi che è è un bar, il Santo Stefano in realtà non esiste, è un paese che esiste ma ha un altro nome, anche il bar Santo Stefano si chiama in un altro nome, però Alfio esiste e si chiama Alfio. Allora mi è successo che Alfio, il vero Alfio, una volta che sono andata lì a fare colazione mi dicesse, ma che ti dico una cosa, quasi quasi cambio il nome al bar, lo chiamo Santo Stefano perché gli è successo varie volte che persone che hanno identificato il bar siano andate lì a chiedere ma questo è il bar dove? E quindi un po' indirettamente ho capito tramite o anche il fatto, questo stavo raccontando poco fa, che è successa una cosa strana, molto divertente, il fatto che nel libro precedente c'era, il cadavere era stato trovato nella grotta di un sotterranea del fiume Amenano che è una grotta che annessa un pub. Mi è arrivata voce, non so se è vera o non è vera, ma insomma diciamo che però chi me l'ha raccontato generalmente non dice fesserie, quindi penso sia vero che dal momento in cui è uscito l'uomo del porto, siccome questa saletta in realtà è una saletta in cui si va per bere, insomma per consumare, probabilmente ci sarà stato un po' di persone che sono andate lì perché volevano vedere proprio la saletta. Ecco è successo che quel proprietario di questo pub ha cominciato a chiedere il ticket per entrare nella saletta. Questa è una cosa che ho scoperto senza... non ci sono ancora tornata, ci andrò in incognito per capire se è vero oppure no. Quindi questo è uno dei segni indiretti che ho del fatto che evidentemente qualcuno comincia un po' a cercare i luoghi di Vanina a Catania. Quello che mi piace, quello che mi fa piacere davvero è quando qualche lettore mi dice, sa sono stata a Catania perché ho letto i suoi libri e sono contenta se questo lettore non mi dice che avevo edulcorato troppo la città, che l'ha trovata diversa da quella che in realtà è. Mi fa piacere se dice l'ho trovata esattamente come me l'ha descritta lei. Questo è un po' il mio intento alla fine. Ecco senti, in fondo perché a me una cosa che piace è andare a guardare i ringraziamenti perché nei ringraziamenti in fondo ai libri c'è sempre una chiave di lettura ulteriore anche un modo per capire che è per capire la personalità dello scrittore. Insomma questo qui è un mio vezzo. Comunque nella parte dei ringraziamenti ecco tu in fondo ringrazi la famiglia che ha sopportato sera dopo sera le tue lunghe sessioni diciamo di scrittura, l'ha sopportato con pazienza. Ecco questo io credo che qua si tocchi un punto sensibile perché lo scrittore, cioè scrivere, scrivere è un mestiere, cioè un mestiere è un'attività anche fisica che richiede un sacco di tempo perché bisogna materialmente proprio scrivere parola dopo parola. Quindi se voi calcolate quanto ci vuole per scrivere semplicemente una pagina senza ispirazione ma quindi è molto di più ecco mettendo insieme tutti questi minuti viene una quantità fuori di tempo abbastanza consistente a parte Simenon che tra l'altro tu citi che scriveva si vantava di scrivere un romanzo in un giorno anzi addirittura un giorno fece una scommessa in questa piazza dove si mise in pubblico a scrivere un libro dice io lo scrivo in non so 24 ore o quello che era e effettivamente lì davanti davanti a tutti lo scrisse ma si meno insomma una cosa particolare a parte insomma comunque ci vuole del tempo e secondo me lo scrittore deve avere anche una buona dose di egoismo in fondo no perché deve dedicarsi a se stesso cioè dedicarsi all'arte quindi dimenticare gli altri tu come fai a tenere in piedi appunto una famiglia la scrittura la famiglia che ringrazi per la pazienza ma che comunque quindi c'è la scrittura è anche il tuo mestiere che è un mestiere di medico ecco come fai a tenere insieme tutte queste cose intanto la famiglia in realtà la mia famiglia è mio marito fondamentalmente ed è in più lo ringrazio sempre tantissimo quest'estate il top veramente penso che il fondo l'abbiamo toccato quest'estate perché lui ormai è abituato al fatto che ci sono dei momenti soprattutto alla parte finale quando sto per tirare proprio alla fine sono dando i fili del libro lui sa che ci sono dei momenti in cui ci incrociamo lui si alza e vado a dormire no perché ci sono queste queste situazioni così ma lui questa è una cosa che ormai lui sa quest'estate è accaduta una cosa diversa il fatto che eravamo qualche modo in vacanza oltretutto un'estate anche un po' particolare perché è stata forse è stata in fondo la prima estate un po' più aperta rispetto a tutti i mesi che avevamo passato eccetera poi noi passati da medico quindi da medici tutti e due quindi immaginiamo un attimino quindi era un'estate in cui noi amiamo moltissimo il mare ci siamo portati il gommone a Noto che è la mia la mia città vicino Noto allora però a quel punto c'era un fatto per un tot di tempo al giorno io dovevo scrivere allora gli ho detto vabbè qua allora i casi sono due o rinunciamo al mare o rinunciamo al resto il mare non si tocca quindi al mare non abbiamo rinunciato abbiamo rinunciato a tutto il resto quindi diciamo che tutte le sere tutti i pomeriggi lui leggeva e io scrivevo oltretutto scrivevo passatemela completamente rinfessita dal sole vi posso assicurare che ho avuto qualche dubbio che questo libro potesse riuscire bene perché ero stata in gommone la mattina oltretutto quest'anno in sicilia ci sono stati più di 40 gradi quindi non è che fosse proprio una condizione climatica eccezionale e poi dopo il pomeriggio e la sera scrivevo come se insomma come avrei fatto normalmente a casa è stato arduo e credo che sia stato arduo anche per lui soprattutto anche il fatto di insomma alla fine poi abbiamo ha rinunciato a tantissimo e un po ci sono cascati in mezzo anche gli altri familiari perché anche i miei genitori che ogni tanto dicevano ma stasera magari facciamo no stasera io devo scrivere non si fa niente quindi alla fine hanno sopportato anche loro questa mia presenza ingombrante dentro casa stavo lì a scrivere eccetera quindi è vero un pochino questo questo però è anche vero poi invece dal punto di vista poi professionale io lavoro lavoro come libera professionista mi posso gestire tutto sommato come voglio un po i tempi ci sono dei momenti in cui mi rendo conto che ormai capita che qualche volta io ci tengo moltissimo a tenere sempre il mio studio aperto a non a non sacrificare mai quell'altro lato della mia della mia vita però ci sono dei momenti in cui prende il sopravvento l'altra professione quindi mi capita magari di chiudere lo studio per qualche settimana questo questo sì però nella norma riesco a conciliare le due cose tranquillamente ci tengo perché in fondo studiato dieci anni per farlo quindi voglio continuare a farlo tra l'altro sei oftammologa ecco perché per chi non lo sapesse ecco tuo marito sarebbe Maurizio quello che quello del ringraziamento lui esatto sarebbe Maurizio bene dunque a proposito di scrittura e di mestiere di mestiere di scrivere tu hai esordito con diciamo con la narrativa tradizionale cioè con un romanzo normale se si può distinguere si è approdata al giallo dopo in realtà è sempre il contrario perché di solito ormai si debutta con è giallo come mai hai scelto di passare al giallo che in realtà in noi che l'ho scelto è successo tutto è tutto è nato da un montacarichi è tutto veramente successo così io avevo era diciamo che era passato già un anno dopo che era era stato pubblicato le stanze dello scirocco e io cercavo una storia da raccontare io ho letto tanti gialli nella mia vita solo che ho sempre pensato che il giallo fosse difficile da scrivere quindi non mi sono mai non pensavo di riuscirci fondamentalmente quindi non lo consideravo un'opzione poi è successo che dei miei amici hanno ereditato una villa una villa che per metà era completamente in disarmo quasi con questa torre era anche un posto suggestivo quanto inquietante personalmente adesso completamente diversa però quando l'abbiamo vista noi veramente l'avevano avuta da pochissimo quindi aveva questo aspetto inquietante alla fine di questa visita guidata che questo nostro amico ci ha fatto fare della di questa villa che avevano ricevuto c'era una cucina immaginate una cucina una vecchia cucina siciliana con temaioliche pentole di rame appese innumerevoli ragnatele da tutte le parti proprio esattamente un luogo da libro alla fine questo nostro amico apre una porticina e dice poi c'è un montacarichi e la mia folle mente di scrittrice cosa pensa guarda qua ci sarebbe benissimo un cadavere mummificato dentro il cadavere mummificato significava che poi a quel punto il cadavere mummificato è diventato una specie di obbligo io dovevo scrivere per forza sta cosa del cadavere non c'era più niente da fare era scattato il click quindi io mi dovevo inventare una storia su questo cadavere mummificato per cui a quel punto mi dovevo inventare un noir un giallo qualcosa che in qualche modo poi raccontasse un omicidio di questo cadavere mummificato è nato tutto da lì dal montacarichi quindi effettivamente è stato è nata prima la storia rispetto al personaggio per esempio poi vanina è nata perché volevo raccontare volevo inventare un personaggio femminile lo volevo con determinate caratteristiche l'ho creata così e mi serviva e anche questo cadavere mummificato da 60 anni è stato il motivo per cui ho creato un patanè che è uno dei miei personaggi preferiti anzi forse devo dire il preferito quello di scrivere di patanè forse la parte che mi piace di più che è nato perché doveva dare una mano a vanina a capire da dove venisse fuori sto cadavere mummificato da 60 anni perché ovviamente 60 anni prima era difficile trovare qualcuno doveva essere pure qualcuno che fosse stato dalla parte di vanina e delle forze dell'ordine di 60 anni prima e quindi mi ero inventata questo personaggio di questo commissario che poi doveva sparire invece non solo non è sparito si è preso il dito la mano il braccio tutto è diventato un personaggio importantissimo e quindi è ecco diciamo il montacarichi è stato davvero il 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 motivo per cui è nato tutto questo mondo qui sì beh come in ogni appunto come in ogni giallo nel giallo tradizionale che noi abbiamo ecco c'è sempre il protagonista c'è sempre una spalla che è più di una spalla ecco patanè è quello che è che davvero veramente più di una spalla di vanina per l'aiuta la consiglia è invadente è simpatico è una presenza anche fisica massiccia eccetera eccetera ecco dicevi che tu quindi al giallo ci sei arrivata forse prima come elettrice ecco quali sono c'è un omaggio a megret e a gino cervi per me gino cervi e megret non c'è qualcuno che invece magari ha qualche idea diversa io riesco a immaginarlo solo con quella faccia quindi non sono mai riuscita a immaginarlo in modo diverso beh anche io poi io appartengo a generazioni in cui quando ero bambino megret c'era in televisione quindi l'ho visti davvero in televisione quindi per me megret anche appunto e gino cervi non potrebbe essere assolutamente ecco ma quindi a parte questo omaggio a megret a simeno eccetera eccetera quali sono stati poi i tuoi gialli ispiratori insomma che ti hanno portato verso questo genere come elettrice secondo me tutti i gialli più come tutte le letture più importanti poi alla fine sono sempre quelle soprattutto che le quelle letture che fai da giovane da ragazzo secondo me sono quelle che un po ti formano in modo maggiore poi è chiaro che contribuisce anche tutto il resto però allora il primo giallo che ho letto nella mia vita in assoluto primo anche se non è mai stato etichettato come un giallo perché era di sciascia sciascia non è mai stato etichettato come un giallista però per me farà anche il mio autore preferito ma insomma gialli di sciascia per me sono eccezionale è il giorno della civetta che io ho scoperto perché perché avevo più o meno 14 anni non di più lo hanno proiettato a scuola il film hanno preso del film a scuola per me non poteva esistere che di vedere un film tratto da un libro e io non avessi letto il libro c'era una cosa per me impossibile che sono andata a bussare da mio nonno che ha sempre avuto tutti i libri del mondo mio nonno aveva una libreria immensa io ero sicura di trovarlo bussato detto che per caso ce l'ha il giorno della civetta lui me l'ha dato e l'ho letta e quello è stato il primo giallo che ho letto nella mia vita in assoluto edizione in audi tra l'altro dove tu saresti poi approdata guarda un po la vita poi però poi dopo sempre un po quell'età poi c'è stato simenon perché anche lì è stato poi alla fine un caso perché ero in era estate sempre la solita è stati torride siciliane però immaginiamo insomma era qualche anno fa decisamente noto non era noto che voi vedete adesso era una città molto diversa ecco era agosto pieno agosto trovare una libreria noto fornita era davvero difficile e io avevo finito tutti i libri non sapevo più cosa leggere siccome mia madre tiene i libri che legge d'estate nella casa li lascia lì quindi c'erano tutti questi libri di simenon tutti i libri del commissario megret fondamentalmente tutti li messi uno dietro l'altro e li ho letti tutti uno dietro l'altro perché non avendo più niente da leggere poi ho letto il primo mi era piaciuto ho letto tutti gli altri e quindi questa è stata un po la seconda la terza è stata fruttere lucentini la donna della domenica che poi anche lì c'è stato il film la cosa c'è sempre stata per me questa commissione fra il cinema e la letteratura c'è sempre stata e poi va bene ma io penso tutto anche tutto il resto sicuramente anche camilleri ha avuto una sua un suo ruolo perché dal 98 in poi io l'ho conosciuto con altri libri ho conosciuto camilleri con la concessione del telefono non l'ho conosciuto con montalbano però li ho letti tutti quindi un po insomma dai vent'anni in poi ho letto tutto quello che veniva usciva di camilleri quindi anche quello in qualche modo sicuramente ha influito da qualche parte ovvio che viene un pochino fuori come viene fuori penso tutto tutto quello che uno ha letto un po poi viene fuori rimescolato beh c'è anche un omaggio ecco per restare nell'ambito della letteratura l'omaggio l'esergo iniziale a tommasi la pedusa c'è un altro grande siciliano simbolo della sicilianità insomma ecco come no il gatto pardo io il gatto pardo è un libro che ho amato tantissimo ho letto tantissime volte poi una volta al liceo ho fatto anche una sorta di critica letteraria personale del gatto pardo poi ho scoperto che la mia professoressa di liceo negli anni dopo quando ormai ero fuori dal liceo la usava la faceva leggere agli altri questo non me l'ha mai detto l'ho scoperto dopo dieci anni quindi per puro caso poi mi ha confessato ma sai che quella quel foglietto lì che avevi lì ho fotocopiato l'ho fatto leggere sempre a tantissimi ragazzi perché mi era piaciuto come diritti d'autore diritti d'autore in realtà c'è la gente questa ecco lo sa sì sì quindi si tommasi lampedusa anche per dire nella salita dei saponari io ho messo in esergo e pirandello perché dopo aver scritto quel libro mi sono resa conto che era venuto fuori da qualche parte qualcosa di pirandelliano di fu mattia pascal e quindi avevo usato una frase di fu mattia pascal proprio perché secondo me era venuto fuori chissà da dove perché poi alla fine secondo me è lì è un po quello che ti è rimasto dentro in qualche modo poi emerge a fiora inevitabilmente a fiora poi ai fiora sempre ovviamente per fortuna a fiora rimaneggiato però però sì fa parte di quello che il tuo background è un mondo letterario importante secondo me ecco dicevamo che giallo è uno specchio abbastanza fedele anche divertito della realtà dei mutamenti che avvengono nella società ecco e per dire e questo abbastanza curioso diciamo se noi lo riportiamo al sud e poi spiego perché insomma noi abbiamo una visione comunque di un sud dal punto di vista delle relazioni della costruzione della famiglia ancora abbastanza tradizionale rispetto al nord invece è come dire tu porti degli elementi anche di fluidità in questo no una dei persone non posso dire di tanto perché se no si rovina la trama comunque uno dei personaggi che è una donna una donna anche in carriera una donna single intorno ai 40 anni ecco ha una una decide di avere un figlio ok le capita più che altro capita le capita ma dice di averlo perché la scelta è di sì sceglie poi di non vabbè comunque non si può dire però ecco è un elemento importante perché allora c'è la maternità diciamo di una donna single al di fuori della famiglia ripeto in un sud che noi vediamo ancora forse a torto comunque a torto perché lo leggiamo anche diciamo nei rapporti famosi del chainsis no che ci sono una fotografia d'italia comunque il sud dove sopravvive il modello familiare tradizionale no uomo donna eccetera eccetera invece ecco qua c'è una donna single che decide di portare avanti una maternità e tra l'altro questa maternità è frutto di un rapporto anche particolare cioè con una persona cioè con un gay insomma ecco tutto questo significa che insomma ripeto il giallo è lo specchio della società eccetera ecco tu dai un'idea anche appunto di una società civile una società dei rapporti familiari dei rapporti interpersonali molto in evoluzione rispetto a quello che noi pensiamo del sud perché in realtà è così perché in realtà è così ecco sì esatto io guarda quando ho raccontato questa storia di giuli sì io ho una una coppia di amici gay che sono sposati da ma che quindi sono loro cinque anni non sono loro sono completamente diversi però sono loro sono dieci anni che stanno insieme loro forse forse veramente la coppia di la coppia più affiatata che conosca più solida assoluto quando io ho raccontato questo inventata questa storia il libro l'ha già uscito eh mi è venuto un dubbio ho detto ho chiamato questo amico ma ti è mai capitato ma è possibile una cosa del genere perché mi era venuto il dubbio ma non è che ho veramente raccontato una fesseria non mi ha tranquillizzato dicendo che ne sono capitati che non ha idea ecco però in realtà io ho attinto un po' la società che vedo intorno a me quindi è una società io credo che questo differire questa differenza della società del sud con quella credo ormai sia veramente molto non ci sia proprio più non c'è più da quando siamo un po tutti più uguali non non è difficile che ci siano delle delle si poi magari probabilmente non so magari c'erano delle sacche anche di di società in cui ancora così indubbiamente però la società che io vedo intorno a me è una società molto 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 diversa da quella che si può immaginare tradizionale della sicilia eccetera siamo molto e alla fine è un po' come un po' come fa parte diciamo dello sviluppo del del romanzo della chiave diciamo del del giallo dell'enigma però ecco il mondo della chiesa no che tu racconti ecco beh innanzitutto c'è un prete di strada molto affascinante che credo che ti piaccia molto no come no e l'ho tirato fuori l'uomo del porto e me lo sono poi portato anche in questo perché mi era piaciuto il personaggio ecco e questo credo che sia una figura molto reale insomma no beh sì io spero che esista nel senso che ovviamente l'ho inventato ho voluto inventarlo perché ho voluto dare un pochino una chiave di lettura un po di speranza nei confronti di un mondo che è quello del quartiere del quartiere di san cristoforo che è un quartiere ad altissima densità di criminalità organizzata come ed esistono ovviamente delle realtà di questo tipo io ho voluto proprio consolidarla anche dal banche anche con l'idea con la speranza che possa esistere davvero questa ciurma di carusi che sono stati tirati fuori letteralmente dal loro mondo non al mondo in cui erano caduti il mondo in cui erano nati che era così quindi era ancora più difficile tirarli fuori perché era la loro famiglia che era così quindi ho voluto raccontare questo questo prete che si che ha questa missione nella questa parrocchia all'interno di questo quartiere difficilissimo e quindi si do rosario una figura importante si eroica molto eroica insomma che combatte appunto anche è un po un omaggio ai ai preti che ci sono stesse ma il don pino puglisi il quartiere di brancaccio cioè stiamo parlando di un po di questo tipo di figura quindi è un po un omaggio anche a questo la figura di don rosario poi c'è l'altro ripeto non posso dire tanto perché ripeto fa parte invece l'altro è l'altro quello che incontrate subito nelle prime pagine del romanzo lo incontrate cadavere che è un monsignore un monsignore anche con una sua carriera onorevole cioè ha fatto carriera nel nella nella gerarchia ecclesiastica eccetera eccetera ecco però lì come dire sono in imbarazzo no se lo rovino tutto però come dire lì c'è una roba che fa una cosa che fa delle cose che non si dovrebbero fare no insomma non posso farti la domanda perché se non rovino no se non si rovina però ti racconto però ti racconto un aneddoto come al solito per racconto per capirci qualcosa per me se non capisco non capisco assolutamente niente di gerarchie ecclesiastiche proprio non avevo idea però nei ringraziamenti appunto stavo arrivando lì perché quando dovevo quindi io dovevo capirci qualcosa fondamentalmente perché dovevo capire perché uno diventa monsignore 1 che ne so io non avevo idea allora sempre il mio amico del montacarichi sempre il proprietario di quella casa lì siccome lui fa lui fa l'ingegnere la sua impresa ogni tanto lavora al vaticano dentro il vaticano allora lui ha sempre tutte queste conoscenze con questi personaggi così metto tu non ti preoccupare ora ti ti do un numero di un vescovo per cui puoi chiedere tutto quello che vuoi ma voi immaginate voi non avete idea quanti quanti secondi è durata la pausa che ha fatto questo monsignore quando io gli ho raccontato quello che aveva fatto il monsignore in questione lui è stato zitto un attimo poi ha fatto ah ah anche gli ho detto mi dispiace ma è così e poi ha detto vabbè vabbè niente le mele marce ci sono dappertutto e ha risposto in questo modo poi in realtà non è nemmeno una mela marcia in tutti i sensi è questo monsignore poi in realtà è soltanto una piccola parte della sua vita che è questo però ecco insomma come anche in questo caso sono andata a rompere le scatole al monsignore esatto per chiedergli queste cose qua quindi effettivamente però anche lì sono un po' le due facce certo no e che comunque sono le due facce poi chiaro ripeto non si deve fare non si può fare è una è una come dire una violazione grave dal punto di vista diciamo del codice etico della chiesa ma credo anche però molto umana insomma noi siamo abituati ormai a vedere una chiesa che fa fatica cioè gli uomini della chiesa a parte i preti di strada che non hanno non hanno dubbi insomma sul loro sul loro mestiere sulla loro attività e sulla loro militanza spesso anche gli uomini di fede hanno del diciamo di fronte ai sentimenti alla passione o agli ormoni hanno dei cedimenti no ci sono gli ormoni anche sotto la toga va bene ma non si può raccontare più di tanto è un elemento essenziale sì sì assolutamente ed è anche una come dire è anche divertente e intrigante andare in questa diciamo capire capire dove si va dove si va a parlare ecco il dialetto appunto noi siamo abituati siamo abituati da camiglieri ci ha abituato che il dialetto siciliano ha una sua statura letteraria e può una lingua una lingua una lingua addirittura ecco tu ne metti tanto di lingua siciliana come mai no io la metto dove secondo me è ovvio che ci stia la metto nei dialoghi ci sono alcune persone alle volte succede che ne metto di più alle volte di meno perché dipende da chi parla ci sono dei personaggi che ovvio che parlino in siciliano cioè spanopata né quando parlano tra di loro loro sanno parlare perfettamente in italiano però è più ovvio è più normale che questi personaggi nel parlare tra loro nella loro vita di tutti i giorni si esprimano in lingua siciliana quindi ecco lì io magari metto più oppure se c'è il personaggio non so del di quello che che viene lì e deve raccontare una cosa ed è un personaggio ecco ci sono dei personaggi che parlerebbero in siciliano ecco quelli parlano in siciliano parla in siciliano io lo metto dove secondo me è più realistico che ci sia poi ci sono dei personaggi invece che parlano in italiano non lo metto sempre solo nei dialoghi quindi questo è per me è importante che è importante che sia dove dove deve stare non in modo eccessivo questo però lo posso fare grazie a camilleri che ha aperto la strada perché altrimenti non ci potremmo permettere ma io col siciliano ma penso anche tanti altri autori con le loro lingue regionali non si non ci potremmo permettere di farlo tutto questo noi ci siamo trovati la strada spalancata da camilleri che in questo aveva calcato la mano molto più di noi e quindi aveva abituato anche un po' i lettori a questo quindi è stato un po un po il nostro aprisa che anche in questo bisogna un po ringraziarlo decisamente sì adesso io sto pensando i grandi esperimenti linguistici anche di gadda come altra c'è certo altre apripista diciamo della mescolanza e della contaminazione di lingue non diretti massimi perché la lingua quello che poi alla fine l'ha fatto cioè quelle poi sono rimasti degli esperimenti mentre camilleri poi alla fine ha proprio aperto la via questo forse sono state probabilmente una serie di circostanze perché forse era il momento adatto per poter fare questo in fondo lui fino a lui ha pubblicato il suo primo libro da grande molto grande anche perché prima nessuno voleva pubblicare qualcosa in lingua siciliana quindi c'era anche questo certo sì e poi appunto mi viene in mente gadda peraltro autore amatissimo ma gadda è un come dire un gioco di intellettuali diciamo è cultura alta mentre camilleri ha portato al popolo cioè alle grandi tirature ecco questa possibilità di contaminazione linguistica ecco oltre al oltre alla lingua siciliana cospargi il tuo il tuo romanzo anche di tanto cibo c'è tanto c'è evanina fa schifo mi sembra a cucinare zero zero proprio fa schifo è una cosa disastrosa spero che tu sia meglio nella vita reale ok vanina veramente disastrosa però invece ci sono tante ricette che comunque e poi ci sono tanti dolci veramente tanti dolci ecco catania è una città così così dolce così ricca di pasticceria sì sì tutta la sicilia è sempre un po così in sicilia le pasticcerie sono ogni ogni angolo però è anche vera una cosa evanina mangia quello che vorrei mangiare io quindi questo è un po diciamo che lei lo mangia io no tendenzialmente tutti quei dolci in quella quantità giornalmente quindi ne fa un uso smodato sì ne fa un uso smodato però ecco tutte quelle cose tutti quei dolci che lei mangia la mattina è però la colazione catanese anche molto molto insomma ci sono ogni bar ha quantità immense di ma poi tanti tipi anche di io ogni volta metto magari un pezzo diverso qualcosa di diverso che viene che lei mangia no però è vero sono veramente davvero così ci sono queste vetrine piene di mille la torta savoia per esempio la torta savoia è una bomba calorica una bomba calorica micidiale insomma anche è vero ecco quella pasticceria lì che io cito quello è un piccolissimo laboratorio di pasticceria che fa davvero la migliore torta savoia di catania senz'altro perché la pasticcera di quella pasticceria lì è ha lavorato nella sua vita per caviezzel che era la famosa pasticceria svizzera in sicilia c'è la pasticceria svizzera che a palermo era caflish a palermo era caviezza a catania caviezzel c'erano queste queste pasticcerie qui che erano pasticcerie svizzere che avevano portato in sicilia una tutta una serie di ricette diverse dalla tradizione siciliana che poi però sono diventate tradizione siciliana palermo come a catania questa questa c'è la torta savoia oppure la 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 foresta nera la foresta nera di caviezzel mi ricordo che era una torta ecco questa pasticceria fa anche questa torta acqua quindi esiste ed è anche vera una cosa che se uno vuole quella torta lì per natale la deve prenotare a fine novembre altrimenti quella pasticceria ti dice no assolutamente signora non non esiste ma 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 perché no perché noi abbiamo finito gli stampi non non possiamo fare ma comprate più stampi no hanno quella hanno quella capienza e quella è non non vanno avanti non si non si evolvono quindi quella pasticceria così era penso 50 anni fa così è rimasta ci sono anche queste realtà catania vanina e tra l'altro è una che a proposito di eccessi è una che fuma anche tantissimo ecco questo non è una cosa che vorrei fare io lo fa e basta perché questo è politicamente scorretto perché fuma tante sigarette sì però è una che perché lei in realtà questo è un po questa filosofia del siccome lei in fondo a rischia poi insomma nel libro precedente rischiava anche ma rischiato anche parecchio era pure sotto scorta però lei ha un po quest'idea che in fondo siccome a lei fumare piace ma io potrei morire sparata domani mattina io mi e poi rimango che non solo sono morta a 40 anni non ho manco fumato che mi piaceva quindi lei ha un po questa questa filosofia le piace fumare le scarica fumando ovviamente molto e più fuma più 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 difficoltà soprattutto nella sua vita privata e più lei fuma quindi ha un po questa è un po questo sfogo che lei ha nella sigaretta e pazienza ce l'ha poi ogni tanto si trascina pure il povero patanè che si fa attraviare in questa cosa qui e fuma guloas come lei e perché hai voluto mettere ecco diciamo allora la figura tradizionale delle dell'investigatore o del poliziotto del cose insomma nei romanzi e cos'è genere è comunque sempre una figura solitaria no perché come diciamo lo scrittore anche 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 il anche il quello che combatte il crimine deve essere solo non può condividere la vita con una con un'anima gemella o perlomeno arrivano e vanno eccetera ecco nel mondo maschile questo fa parte proprio del cliché cioè l'investigatore privato o il poliziotto è sempre solo ogni tanto trova ogni romanzo ne trova una ma poi si finisce eccetera eccetera invece e questo forse una diciamo è l'altro aspetto diciamo della l'altra medaglia l'altra faccia della medaglia no cioè del dell'investigatore femminile anche vanina è single cioè anche vanina è da sola però la non non vuole o perlomeno non riesce a rinunciare del tutto alla vita amorosa no e quindi è tormentata e sospesa ecco perché c'è a questo punto questo personaggio paolo che che è un pm che entra ed esce della sua vita ecco perché hai voluto raccontare anche questo tormento cioè questo anima divisa insomma di non poter fare a meno del sentimento della vita amorosa che lei in realtà suo malgrado non ne può fare a meno perché lei è sempre convinta del fatto che l'unico modo per non rischiare di soffrire con paolo quello che ha sofferto per suo padre perché poi per vanina nasce tutto da lì e poi si finisce sempre tutto lì il fatto che quella la quella morte del padre davanti ai suoi occhi in quel modo lei la le ha condizionato tutta la vita lei si sentite impotente l'ha visto uccidere davanti ai suoi occhi poi in fondo lei però per paolo ha fatto quello che nella sua mente non era riuscita a fare per suo padre perché suo padre non l'aveva non l'aveva protetto non lo poteva proteggere era troppo piccola mentre paolo l'ha salvato però è come se questo salvataggio le avesse tolto qualunque le ultime forze cioè beh io la prossima volta potrei non resistere più a tutto questo e non voglio non lei dice non potrei non pensa di poter immaginare di resistere a un'altra lapide nella sua vita ecco questa è la sua idea quindi lei teme che un personaggio come paolo così minacciato così sempre in pericolo così sottoscorta da da anni sia per lei un pericolo importante quindi lei era convinta che andandosene lasciandolo cambiando mondo cambiando potesse in qualche modo di staccarsene per quattro anni ce l'aveva fatta poi in sabbia nera lui era ricomparso in realtà era ricomparso anche perché poi era ricomparso per caso però la prima immagine che compare in sabbia nera le fa capire che dopo quattro anni non è cambiato nulla cioè lei non ha smesso di rischiare assolutamente perché quando lei in televisione vede un servizio del telegiornale che dice che paolo malfitano è stato ha ricevuto delle minacce dal carcere cosa molto tipica in genere delle minacce mafiosi che provengono dal carcere intercettazioni fatte in carcere in cui addirittura si parlava di esplosivo e questo in questo poi paolo ci ride perché dice nel 2016 perché siamo nel 2016 nei miei libri nel 2016 l'esplosivo è difficile che lo mettano in atto cioè questa è una sua fanno facendo teatro dice no però è arrivata sta pinaccia dal carcere quindi chiaramente ci sono anche i servizi del telegiornale c'è lui in televisione ecco quando lei sente questa cosa la sua reazione una reazione è terribile da proprio da attacco di panico è tale quale quella che avrebbe avuto se invece fosse rimasta con lui tutti questi quattro anni quindi l'ha capito che non ha concluso niente continua a convincersi ad autoconvincersi che in realtà potrebbe riuscirci a distaccarsi ma in realtà continua sempre più lo frequenta più lo vede più ci ricasca ogni volta che va a palermo ci ricasca sempre poi alla fine lui è poi sempre lì nel libro precedente poi c'era stato pure un passaggio uno step nel quale vanina aveva un po anche modificato il suo modo di vedere la cosa o comunque aveva iniziato a modificarlo perché si era resa conto che quando era stata lei dalla parte di quella quella che stava rischiando perché aveva una minaccia di morte sulle sulla testa lui non era scappato per niente anzi era più più presente rispetto al a prima e questo l'aveva fatta riflettere molto quindi si è innescato un meccanismo che la sta riportando in fondo sono passati da sabbia nera adesso al talento del cappellano sono passati quattro mesi non è che è passato molto tempo quindi lei ha un rimesso un lavorio anche suo mentale sentimentale poi ogni tanto in mezzo ci si infila qualcun altro che lei diceva perché ma mannaggia vedi quanto sarebbe facile stare con questa persona e però poi alla fine finisce sempre anche per dire manfredi monterreale quest'altro spate l'ermitano il pediatra con qui insomma una persona così perfetta ci starebbe così bene simpatico sa pure cucinare bene quindi proprio sarebbe perfetto eppure lui per primo sa che finché c'è malfitano fra i piedi non ha moltissime chance e lei stessa alla fine sa sempre un po che non ce la fa a staccarsi da lì e a buttarsi in una cosa che sicuramente sarebbe molto più più rilassante anche per lei più rasserenante grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti